E siamo ancora in diretta, sono le 8 e 14 minuti di martedì 7 maggio, ancora bentrovati a questa puntata del Buongiorno Bari, giornata fondamentale per i baresi questa sera al Via, il corteo storico di San Nicola. Non c'è bisogno che ve la presenti, dai dite la verità, la conosciamo tutti, siamo qui in compagnia di Elisa Barrucchieri, direttrice artistica di Res Extensa, Porta d'Oriente. Ciao Elisa. Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati. E allora intanto se avete qualcosa da chiedere ad Elisa approfittate nel 080 501 4668 per le vostre telefonate, 9998 per i vostri whatsapp e whatsapp audio. Stiamo cercando di contattare telefonicamente anche Raffaello Fusaro, regista del corteo storico, però lo sappiamo, questi sono momenti concitati. Lo posso dire Elisa che tu mi hai mandato un messaggio alle 4 di stanotte? Sì, sì, lo puoi dire. Penso la mia voce ne sia una prova concreta. Non dormono mai, non dormono mai, quindi intanto grazie di essere qui perché mi rendo conto che sono davvero dei momenti importanti per voi. Abbiamo già un messaggio? Sentiamo. Io in merito alla danza aerea di Elisa Barucchieri so che quest'anno sarà totalmente accessibile a qualsiasi tipo di diversabilità fisica. Lo sai Elisa che non potevi non avere un messaggio da Alessandro, lo sai. E' il buongiorno più bello che ci sia. Allora Elisa, prima di entrare nel merito, noi tante cose le abbiamo già dette, magari stamattina cerchiamo di strapparti anche qualche curiosità in più, però stato d'animo. Tu ormai fai parte della tradizione del corteo storico, ormai non c'è un corteo storico senza la danza aerea di Elisa Barucchieri. Però tu ogni anno cerchi di dare qualcosa di diverso, un'interpretazione più ampia. Questa volta su cosa ti sei concentrata? E' strano, no? Perché è un po' quella cosa che non ti puoi concentrare su fare qualcosa di nuovo, perché poi sennò diventa che guardi il dito anziché la luna. E' vero. Allora riguardare la potenza della storia di Bari e di questo gesto incredibile che ha salvato delle reliquie e le ha messe al centro del mondo e la potenza di queste reliquie e di questo santo che da veramente, sono 1500 anni, vibra di messaggi che sono sconvolgenti per l'attualità. Uno potrebbe dire un ritorno al futuro quasi. Lui dice cose che sono di oggi talmente, perciò per me è guardare quello e capire come farlo, nel modo forse anche più medievale, più corretto possibile, con tutte le tecnologie e tutto quello che è a disposizione per creare qualcosa di nuovo. Perciò è difficile, ogni anno ci tengo di più, nell'anno dopo, perché aumenta la conoscenza, aumenta l'emozione, diventa più difficile. Posso dirlo che aumentano anche le aspettative dei baresi, perché tu ormai ci hai abituati a standard elevatissimi. Grazie. Ma non lo dico per metterti ansia, sia chiaro. Sì, quest'anno è molto bello, è una cosa molto molto speciale, è che siamo riusciti, perché cresciamo anche noi, siamo riusciti, la squadra, penso ci siano tipo 150 danzatori, artisti, acrobati nel tutto, ma siamo riusciti veramente nell'intento di coinvolgere nuovi artisti, perciò abbiamo fatto una call nazionale, che poi è diventata internazionale, c'è gente che ci ha scritto da Parigi e da Budapest, con la candidatura per venire a danzare per noi, per San Nicola. E abbiamo fatto delle call coinvolgendo giovani, giovanissime, anche del territorio, artisti che sono venuti da fuori, in più che non conoscevamo, e ci saranno tante prime volte, tante tante prime volte sul palco per dei giovanissimi, prime volte da professionisti per dei semiprofessionisti, e prime volte in aerea, in una cosa molto complessa, per alcune persone, tante, 15, 12, che non avevano mai volato fino a questa occasione. Meraviglia. Intanto abbiamo una telefonata in linea, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Mi sentite? Sì. Chiedo scusa. Porto e chiaro, prego. Io non tanto, va bene. Buongiorno, buongiorno dottoressa Elis. Guardi, io ho un'emozione forte perché mi ricorda mio marito, che quando la prima volta l'ha sentita, l'ha vista che lo stava bene. Va bene, lasciamo stare le ciance. Ecco dottoressa, io ho una preghiera a San Nicola, per tutti noi che ci aiuti e ci protegga. E poi, un'ovazione a lei, un'ovazione a lei. Io stasera, senz'altro, sarò incollata alla televisione, anche perché i miei nipoti e i miei figli vengono tutti a vedere la festa. Non posso. Buona giornata, buon lavoro e tanti, tanti auguri. Grazie. Un abbraccio. Grazie. A profitto per ricordare che saremo in diretta su Telebari per dare alla possibilità a coloro che non possono intervenire in centro, per dare la possibilità a tutti di gustarsi questo corteo. si parte alle 19.30 su Telebari. Con tutti i nostri giornalisti cercheremo di mostrarvi ogni lato di questo corteo. Posso dire una cosa su questo? Penso che sia bellissimo. Se fossi spettatrice, qualche volta è bello partecipare dal vivo, ma qualche volta anche io lo vorrei vedere dal divano con la famiglia, come ha detto la signora, che ringrazio, veramente mi ha commossa, perché si riesce a vedere il particolare. Sono due esperienze diverse e una non è meno dell'altra, grazie a voi. Perciò è veramente bella questa cosa. E per noi anche sapere che anche la cura del dettaglio è importante, perché c'è qualcuno che potrà vedere anche la cosa più piccola e poi vedere il tutto insieme lo crea un doppio livello di emozione. Eri sta tornando un po' al tuo ruolo. Io credo che al momento sia inimmaginabile pensare ad un corteo senza danza aerea, perché te ne dico una. Io guardavo prima i miei ricordi su Instagram e nove anni fa ho trovato una mia storia su Instagram in cui c'era una danzatrice, ovviamente che tu coordini, appesa ad un filo davanti alla Basilica di San Nicola. Per questo ti chiedo, senti un po' anche il peso della responsabilità, perché alla fine sei tu che corni, sei tu che immagini in un certo senso. Come la vivi questa responsabilità? Tento di non pensarci. Per questo non dorme. Tento, c'è un I Ching, nei messaggi degli I Ching, uno che mi ha sconvolto la vita quando ero all'università, nel momento di grande profondità, che diceva sì, sempre entusiasta di ciò che fai e non di te che lo stai facendo. Allora, tento se questa cosa può arricchire l'esperienza e creare quella dualità che poi in particolare è di San Nicola, di essere veramente di Bari, ma non di Bari e del mondo. Se questo può aiutare a creare questa cosa di più, io sono contenta. Finché posso ci metterò tutte le mie forze e la mia voce affinché questo possa avvenire. Grazie però. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno Raffaele da Monopoli. Buongiorno. Sono un po' devoto a San Nicola. Infatti vengo sempre, ogni anno. Diciamo, lo farò anche oggi. Lo farò anche per una preghiera specifica. Devo chiedere a San Nicola veramente il miracolo di salvare il Bari. Perché quest'anno solo lui può riuscire. Io sono d'accordo con te Raffaele. Ovviamente colgo al volo l'assist. Diciamo che ognuno di noi chiede qualcosa a San Nicola. Non far piangere Giuseppe Bellino in diretta, per favore. Non sono il tipo, però ovviamente credo che, diciamo, è la stessa cosa che chiederò io questa sera. Quindi immagino. Ricordiamo i numeri ancora per intervenire in diretta. 080-501-4668 per le vostre telefonate. 080-9998 invece per i vostri Whatsapp e Whatsapp audio. Prima tu dicevi tante prime volte questa sera. Allora io mi immagino, oltre alla bellezza di San Nicola, anche la bellezza di accompagnare per la prima volta tanti giovani professionisti in una cosa completamente nuova. Saranno stasera avvolti da questo abbraccio della città di Bari. Sarà per loro un'esperienza incredibile. Sarà bellissimo. Ma anche ieri sera solo alle prove c'erano quelli in aria che urlavano dall'emozione. Sul palco abbiamo dei giovanissimi che sono lì con dei grandi professionisti e li vedi con questi occhioni emozionati, dei bambini bravissimi, ma proprio che io vado in pensione. E in più abbiamo tante tante chicche. Due danzatori, uno che è scappato da Kiev e uno che è scappato dall'Israele che danzeranno due ruoli, l'uccellino e uno dei tre generali. Gli altri due poi sono albanesi. Perciò abbiamo un po' questi uomini che danzeranno per la pace. E per questi ragazzi che sono baresi, quei due che ho menzionato prima, in realtà probabilmente è la prima volta che danzano veramente nella loro città. Perciò sì, tante prime volte di giovani, ma anche di professionisti, di persone di grande talento che sono tornate. Le ragioni sono tremende, anzi, la loro danza è anche parte della preghiera per San Nicola perché nazioni dove sono fratelli che si ammazzano, non abbiamo capito niente di quello che ci ha detto. Però per loro è proprio la prima volta. Poi un palco così, in un'occasione così, è sempre un po' una prima volta per tutti. Veramente è un posto molto speciale. Poi tra l'altro quando magari sei dall'alto, voli dall'alto, hai anche una prospettiva di insieme, di tutto. Noi diciamo sempre che San Nicola unisce i popoli. Mai probabilmente come quest'anno hai fatto benissimo a ricordarlo. Insomma, c'è bisogno di unione. Mamma mia, noi pensavamo prima, appunto nel 2019, pre-pandemia, che fossimo messi male. Poi è arrivata la pandemia che ci ha sfidato, ci ha dato delle occasioni per imparare qualcosa. Penso che tanti di noi l'hanno imparata, ma tante altre cose no. E poi siamo proprio peggiorati, ci siamo un po' incattiviti. Ed è un peccato perché sta a noi. Non è che sta a nessun altro. Perciò è un po'... Questo momento ci serve tanto, tanto, tanto. Intanto abbiamo volutamente ignorato il messaggio di Alessandro Antonacci che ci è arrivato, ma l'ho fatto a fin di bene perché ti avrei fatto una domanda ovviamente nel corso del nostro spazio per chiederti come ci hai anticipato lo spettacolo appunto di Danza Aerea. Sarà tradotto anche in linguaggio LIS? Ci state lavorando? Un'operazione molto difficile e complicata, però anche con l'aiuto delle associazioni del territorio state riuscendo in questa autentica impresa? Sì, sarà nella pura ortodossia, nel rispetto del linguaggio LIS, che io tento di non dire che è una traduzione dall'italiano, è un'altra lingua, un altro modo di dire ciò che noi riusciamo a dire con le parole e nell'audiodescrizione saremo un po' fallimentari, in realtà perché vogliamo che l'esperienza sia per tutti. Allora una pura audiodescrizione corretta toglierebbe l'esperienza a tutti, perciò stiamo tentando di trovare questo equilibrio. Io ringrazio l'ente nazionale Sordi, le Zanzare, Vari Zero Barriere, perché veramente mi stanno aiutando tantissimo e sono onorata, onorata, onorata di questa presenza perché faremo un primo passo e sarà sbagliatissimo sotto tanti aspetti, ma è un primo passo in pura onestà, in pura verità e penso anche nell'errore comunque darà un'occasione specialmente a chi non ha un handicap sensoriale di cogliere la possibilità, poi mi confondo sempre, ma in qualche maniera di riuscire a vedere ascoltando piccole cose, facendo un po' più attenzione all'ascolto, che è tanto, e a sentire vedendo. Allora sto tentando di far sì che anche per noi sia un'occasione di espandere un pochino le nostre capacità. Di allargare i nostri orizzonti. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. 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 Saluto gli ospiti, faccio un veloce telegramma. Sì. Bisogna che la regina del latte divina, delle figure aeree, il Comune ridia le chiavi della città perché il suo contributo ha fatto dell'evento storico un avvenimento internazionale. Grazie. Grazie. E su questo credo siamo tutti d'accordo. Forse è una delle poche cose su cui noi baresi siamo tutti d'accordo, Elisa. Grazie. L'obiettivo è farla piangere. Vabbè, ma ce la state facendo. Io che poi non sono barese, l'ho proprio scelto Bani, ma ne sono innamorata in tempi non sospetti, quando anzi in Piazza del Ferrarese era ancora un parcheggio e riuscire a contraccambiare, cioè riuscire a dare qualcosa così e sentire che vale la pena, che viene accolto per me è il massimo. Grazie, grazie, grazie. C'è una cosa che non abbiamo detto, ci stiamo avvicinando alla chiusura, quindi intanto se avete qualcosa da chiedere ad Elisa approfittatene. Infatti abbiamo una telefonata, chiedo davvero un minuto al nostro ascoltatore, tu ballerai questa sera, danzerai questa sera, perché sai a volte si pensa, lei la direttrice artistica sta in un angolo, la direttrice, no no, lei balla. Sì, 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 anche questo sarà buona la prima, perché c'è questa bella idea di collaborare, di far collaborare il corteo a terra con lo spettacolo che è diventato sempre più grande, perciò diventa più, fare il tutto con le misure, le dimensioni nelle quali è diventato, e mi auguro che stasera si veda l'impegno che ci abbiamo messo, sarebbe quasi impossibile, cioè è un impegno veramente grande. In questa maniera invece con la collaborazione, con la regia, la direzione artistica di terra, si riesce a fare un incastro nuovo e diverso. Allora io e Raffaello Fusaro ci conosciamo da molti anni, abbiamo collaborato in moltissime occasioni, ma anche come con Nicola Valenzano l'anno scorso, ma con Raffaello in particolare, noi eravamo proprio bambini a gestire un teatro insieme, a Bitonto, anni fa, nella bellissima Teatro Abitati, e mi ha chiesto, mi ha proposto di contribuire nel suo spettacolo in quanto interprete, perciò è anche un onore per me essere poi totalmente al servizio della visione artistica altrui di Raffaello, e perciò ci sarà questa cosa in Basilica, dove io non ho mai fatto niente, io personalmente ho solo creato e fatto interpretare ad altri, perciò sono doppiamente emozionata, sto tremando solo a pensarci, salita la pressione. Prendiamo un'ultima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno ragazzi. Buongiorno a tutti e tre, uno particolare ad Elisa, la quale veramente merita tutto l'amore che Bari gli sta offrendo, e a proposito di questo, volevo fare una considerazione a una domanda ad Elisa, partendo dal presupposto che San Nicola è un santo che unisce e non divide, San Nicola è il santo più amato al mondo, e unisce i popoli, ci saranno due popoli che sono innamoratissimi di San Nicola, che non potranno assistere personalmente nella nostra città a questa manifestazione, e sono gli ucraini e i russi. San Nicola ha la capacità di unire un russo e un ucraino nella cappella dove vanno a pregarlo, non esiste guerra, questo unisce. Cosa voglio dire a questo punto? Che dobbiamo lanciare un messaggio anche per questi popoli che non avranno l'opportunità di adorare questo santo in questo periodo, perché loro amano visceralmente San Nicola. Ed Elisa ha fatto una cosa grandissima con la danza aerea, ci ha abituati a guardare il cielo, noi non siamo abituati a guardare il cielo, è un senso di venerazione questo. Quindi ti ringrazio, buona giornata. Grazie Francesco. Grazie tantissimo. E' molto vero, questa cosa di che piccoli esseri umani, feroci e potenti per poi interessi patetici, limitati, riescono a bloccare interi popoli dall'essere vicini. Questa cosa io la trovo scandalosa, e che ancora nel nostro millennio non abbiamo capito niente, ci siano guerre appunto che blocchino gente gente che sono fratelli e sorelle. E San Nicola di nuovo. Dobbiamo capire. Pensaci tu, aiutaci a capire perché e come riuscire a migliorare tutti affinché veramente la smettano. E allora, noi lasciamo andare Elisa che già ci ha fatto questo regalo di essere qui questa mattina, nonostante la sua... No, credo forse non hai dormito proprio. Volevo dire che è andata a dormire alle 4, probabilmente non ha dormito proprio Elisa. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Stasera ti seguiremo tutti. Saremo lì, vi ricordo, la diretta a partire dalle 19.30 su Telebari. Solo un'ultimissima domanda flash, perché lo sai che arriveremo a chiederti di allenare il Bari. Secondo me arriveremo a questo. Dopo le chiavi della città e lo step successivo. Non lo so, se volete allenare al Bari come gli voglio io, forse non è il caso. Grazie, grazie. Posso organizzare il tifo? Ecco, posso avere quello. Danza aerea allo stadio. Grazie Elisa Barrucchieri. Grazie a voi, viva San Nicola. Grazie a voi per averci seguito, per essere intervenuti davvero a qualche istante di musica. Torniamo subito con altre notizie.